Il percorso musicale del Duopugliese Squadrone, formato dal bitontino Valerio Vacca e Valerio Ardillo di Grumo, ha raggiunto una tappa particolare con l'uscita del loro nuovo EP, distribuito con l'etichetta milanese Top Records. L'EP disponibile su tutti i digital stores da Spotify e iTunes è composto da 6 tracce, oltre la parte introduttiva e finale che inquadrano il concept. Lo squadrone non proviene dal pianeta Terra, ma da un pianeta che si chiama Terra D, posto in un universo parallelo. Cosa succede in questa Terra D? In questa Terra D c'è un gattaccio, Oliver, che ha bandito la musica dal pianeta e quindi è tutto brutto, grigio e si sa che senza musica fa schifo la vita. Quindi noi cosa siamo effettivamente? Noi siamo la ribellione, noi ci siamo ribellati a questo gatto Oliver, abbiamo rubato la sua macchina intergalattica e siamo venuti da Terra D sulla Terra per fabbricare musica, perché qui ci sono gli strumenti e diciamo formare la ribellione e portare la musica su Terra D. Sarà possibile con questo EP ripercorrere quindi il percorso musicale del duo? Tra le tracce c'è il trap bro, con cui lo squadrone ha avuto un ottimo successo, soprattutto durante il lockdown, ma la grande novità è il singolo epico. E' il singolo di questa EP che diciamo ci consiglia di vivere a pieno tutte le emozioni che possiamo attraversare durante il nostro viaggio, no? Sì, appunto, perché molte volte diciamo il messaggio nascosto all'interno di questa canzone è quello che quando noi ci sentiamo piccoli di fronte alle difficoltà della vita, comunque alle paure, c'è un momento in cui dobbiamo diventare epici. Non arrendersi mai davanti alle difficoltà è il messaggio lanciato da squadrone e dal video inedito del loro singolo EPICO, mediante uno scontro tra due ragazze lottatrici che ha un risvolto EPICO. Vi voglio invitare qui a vedere sul nostro canale YouTube che si chiama Squadrone Music il video estratto da EPICO appunto. Anche perché l'abbiamo girato qui a Bitonto in collaborazione con Coefit Bitonto che salutiamo. Lo squadrone non si ferma qui, è già impegnato nella realizzazione di un album che continuerà a tracciare la loro storia, il loro viaggio EPICO. Per saperne di più basterà visitare i profili social del duo, tra cui la pagina Facebook Squad Drone o Instagram S4 Drone.